Buonasera, mi chiamo Pietro, ho 26 anni e vengo da Genova. Da poco sono uno psicologo, ho da poco passato l'esame di Stato e lavoro attualmente come progettista della formazione rivolta alle aziende presso un'azienda, un ente di formazione a Napoli. Dopo aver passato un periodo dati lucinante presso l'ufficio comunicazione della Will Transporte Nazionale a Roma, desidero frequentare il corso annuale della scuola di politiche per costruire la mia figura professionale e per arricchirla di competenze gestionali e relazionali, oltre che per soddisfare e per completizzare la mia attitudine curiosa verso la gestione della cosa pubblica e verso l'attualità e per incontrare altre persone che hanno la mia stessa identica forza e la volontà di cambiare il nostro paese, per contribuire attivamente al benessere di tutte le persone che ne fanno parte. Spero che prenderete in considerazione la mia candidatura e vi ringrazio per l'attenzione.